salve a tutti i miei cari zecchini e benvenuti in questo nuovo video di clash royale vogliamo puntare alle 5.900 crone proviamoci innanzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale se siete iscritti attivare la campanellina per non perdervi le nostre live di stambul guys e soprattutto e niente allora intanto ritiriamo quello che c'è da ritirare vediamo cosa c'è ma niente di che forse troppo alto il volume lo abbassiamo un pochino ritiriamo anche questi 10 e vediamo se riusciamo a arrivare a 5.900 corone vi ricordo se volete entrare nel nostro clan il nostro clan si chiama gli zecchini è questo qua no gli zecchini scusate però siamo 50 di 50 però verranno tolti chi non è scritto al canale e anche quelli che non donano e che non fanno la guerra e noi proviamo andare a 5.900 corone manca poco sì perché ha rivinto qualche altra partita con questo deck vuole arrivare alle 6.000 sarebbe un super record già questo è un record però vediamo se riusciamo a passarlo è io quella levere subito quella mi leva lui a me però adesso possiamo partire da dietro con il nostro golem ci abbiamo una curatrice lui ci rimette questo noi ci mettiamo la valkyrie intanto se quella tesla qua ci mettiamo questi ci potremmo andare anche di questa e poi di questa e poi di io ho attivato la cosa era meglio non attivargliela la torre centrale però va bene lo stesso noi andiamo avanti con quei due la la sua torre va giù ne mettiamo un'altra quali pirotecnica e vediamo un po cosa riusciamo a fare non tanto perché lui no insomma da qualcosa riusciamo a fare se la valkyrie amore prima di arrivare non sarebbe male lui ha messo male male quella quelli lasciamo fare perché aspettiamo di avere un po più vicino a lei e poi partiamo all'attacco proprio pesantemente così ho forse sbagliato le frecce sì forse ho sbagliato le frecce però se metto la pirotecnica qua penso che non ci sia niente da dire un paio di frecce no? un paio di frecce e dovrebbe essere finita vai una è portata a casa ci dà del pollo va bene non rispondiamo 5.000 oddio 5.899 iniziamo questo sblocco non me la farà mai vincere la prossima ora mi metterà contro un deck di quelli pazzeschi è un po' vero che ho l'immagine messa male quassù a me la può sistemare un po' meglio ah no vabbè così meglio di così non si può e non ci confondiamo che se perdiamo questo è un casino eh devo arrivare a 5.000 oh mamma mia che cattiveria facciamo così vai facciamo così non ci pensiamo più mi ha fatto fuori tutto a quanto veda eh vabbè ma qui è cattiveria pura allora eh la pirotecnica forse ho sbagliato perché adesso la mogolfierà me la sfonda da vedere eh non l'ha sfondata ma quasi aspettiamo un attimo che non è ancora detta eh ora lui ci andrà di cattiveria così noi ci andiamo così facciamo così mamma mia allora vediamo se possiamo farlo curvare un pelo eh mamma mia è un po' torta questa cosa non credo di poterlo battere questo deck ma noi ci si prova lo stesso oddio lui il male non è che me l'abbia fatto chissà quanto eh mamma mia ora mi fa male ora mi fa male però posso fargli male anch'io forse vediamo speriamo speriamo mamma mia avrei dovuto tirarla tirarle meglio il le frecce tutto questo perché ora lui tirerà sicuramente qualcosa di eh di questo frecce adesso dai 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 se sono di 5900 corone dai dai vai ora vai ora avanti dritto tutto per tutto questa la mettiamo qui questa la mettiamo qui dritto tutto per tutto tutto per tutto ragazzi record 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 5900 corone prendiamo io ho paura a fare la terza lo so lo so che non può andare sempre bene ma 5927 andiamo però se la perdono rimango sotto le 5000 corone dai 5900 e questo non andrebbe bene ma noi non perderemo cheat eh quello mi dà già noia quello mi dà già molta noia mettiamo questa qui mettiamo questa qui qui poi qualche dannino noi lo facciamo questo può far male una curvata uno no ovviamente sbaglio sempre queste cose qua proviamo così ma non la vedo bene non la vedo bene non la vedo per niente bene ragazzi infatti lui arriva già a una struttura centrale però io non demordo noia attivato la torre centrale brutta cosa questa brutta cosa devo levare quello lì di lì perché sì quel domatore lì non mi piace proprio per niente sperando che faccia qualche danno dai dai tiro le frecce tiro le frecce no 24 24 è rimasto ho ribisogno delle frecce ho ribisogno delle frecce non ce la farò mai no non ce la farò mai non ce la farò mai toglimi 26 ti prego toglimi 26 ti prego 24 24 rimaniamo sopra le 5900 colone e quindi io mi fermo qui ragazzi voi se volete iscrivervi al canale e anche alla squadra cercheremo di liberare posti di chi non è attivo noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale mio è quello di Lady Bella De Socks che è la mia fidanzata dove porteremo i nostri vlog più avanti usciranno dei bei vlog vi lascio tutto qui sopra vi aprirà adesso a fine video e noi ci vediamo in un prossimo video ciao Zecchini